Ciao, bentornate sul mio canale. Sono stata da Terranova e da Croft e vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto con gli sconti. Allora, da Terranova ho preso tante maglie che adesso vi farò vedere. Allora, ho preso questa maglia con la rifinitura così in pizzo. Pagata 12,99. Vi chiedo scusa se il video non sarà a fuoco molto bene, però questa è la ripresa. Poi ho preso quest'altra maglia con la spallina in pizzo a manica a tre quarti. Pagata da 12,99. 7,99. Poi ho preso quest'altra maglia, sempre con la spallina in pizzo, però questa volta rigata rosa e nera. Pagata 7,99. Poi, quest'altra maglia a manica corta, sempre con la spallina in pizzo. Pagata 12,99. Questa qui, pagata 7,99. Poi, questa qui, we can't please stay, pagata 7,99. Semplice. Poi ho preso questa qui, little things, pagata 9,99. Poi ho preso questa qui, che è come l'altra, solo che è più larga, 12,99. Poi, da Croft, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Bene, da Croft, li svuoto di nuovo. Croft, you will buy up, non so come dirlo. Allora, li sistemo e ve li faccio vedere. Allora, ho preso questo pigiamino, questo è il pantaloncino, questa è la maglia del pigiamino, pagato 9,99. Poi ho preso questa maglia, pagata 5,99, con la taschettina qui, molto carina. Poi, ho preso quest'altra maglia, con il merletto qui, molto carina, pagata 6,99. Poi ho preso quest'altra maglia, che non rende, ma è blu, con la manica così, con il fiocchettino, pagata 5,99. Bene, ragazzi, questi erano i miei acquisti, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbiate tenuto compagnia. Un bacio, alla prossima, ciao!